era il massimo perché comunque il corte franca c'era una squadra comunque superiore però diciamo che abbiamo fatto un'ottima stagione e quindi insomma bene esatto è stato molto comunque c'è diverso come c'è rispetto alle altre stagioni però comunque ci siamo sempre allenate nel senso siamo fermate due settimane penso sì due tre settimane che abbiamo ci siamo allenate comunque a casa però se no diciamo non ci siamo mai fermate quindi in realtà è cambiato poco sotto il punto di vista diciamo degli allenamenti ecco no al corte franca ce l'abbiamo tenuto comunque bene perché abbiamo fatto un pareggio al ritorno però insomma ce l'abbiamo tenute abbiamo puntato più a difenderci però è una squadra c'era una squadra comunque nettamente superiore e si vede che insomma ha allenato maschi comunque categorie c'è anche importanti insomma si vede tutta la sua esperienza che ha acquisito lui negli anni insomma diciamo che vorrei segnare un po di più diciamo essendo esterno destro quindi insomma farò in modo di rimettercela tutta e di lavorare per questo sicuramente c'è più competitiva anche per comunque gli acquisti che sono stati fatti e comunque per le esperienze che abbiamo acquisito comunque negli anni perché siamo sempre rimaste cioè noi diciamo che comunque il gruppo è così da un paio d'anni ormai sì sicuramente anche perché ci sono più squadre a mio parere forti e quindi sarà sicuramente più impegnativo anche a livello di durata quindi sarà veramente un campionato lungo sicuramente il Venezia stesso contro cui abbiamo giocato domenica il Vicenza la Triestina che abbiamo domenica insomma il Padova ce ne sono ce ne sono di squadre sì sì tutto sommato sì insomma un pareggio secondo me meritato e quindi no dai è andata bene speriamo di continuare così ecco insomma diciamo che comunque i derby sono sempre più sentiti però cioè in realtà ogni partita lo è e quindi diciamo che cambia poco nel senso quindi dai